web tv studios ci spostiamo ai cosmetici per la vostra auto ma che dire come ti chiami marta marta cosa fai qui oltre a presenziare in maniera spettacolare cosa 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 proponi cosa fai qua al moto days allediamo i clienti di mafra cosmetici per le auto io vi dico c'è una fila tutti a fotografarla allora un commento su questa fiera di roma che si sta svolgendo oggi è veramente meravigliosa ci sono tantissime cose divertente tantissime attività tantissimi stand potete trovare di tutto è veramente fantastica ci lanci un bacio a web tv studio sarebbe un bacio come fai tu così certo grazie perché con la web tv studios al moto days non ci sono solo le moto ma anche fantastiche fanciulle come lei come ti chiami valentina valentina presenti in maniera spettacolare questa moto cosa divertendo sicuramente sì tante emozioni emozioni tante persone e quindi insomma vi aspetto vi aspetto qui allo stand mafra per fare tante foto insieme e faremo anche degli spettacoli quindi come ti senti quando tutti si fermano a fotografarti a ammirarti beh sono contenta fa sempre piacere no come si dice perfetta la lancia un saluto un bacio alla web tv studios a coloro che ci stanno guardando a casa amici un bacio a tutti vi aspetto numerosi qui padiglione 4 stand mafra stand i cosmetici per la vostra auto adesso siamo in compagnia di giorgia giorgia allora tu un commento invece cosa ci dici sei sopra questo quad cosa cosa dice ai nostri amici che ti stanno guardando a casa invitali a venire qui al moto days sì assolutamente di passarci a trovare abbiamo un sacco di attività quindi vi aspettiamo il tuo stand cosa propone cosa cosa vende beh le ragazze fanno uno spettacolo sì uno spettacolo con i nostri prodotti e poi abbiamo tantissime attività dimostrazioni perfetto allora anche tu mandaci un saluto un bacio a tutti coloro che ti stanno ammirando da casa web tv studios ok padiglione 4 stand f14 vi aspettiamo ciao ciao